Domani proprio qui alla Riccucci entra in scena gara 2, come te la immagini questa gara? La possibilità di chiudere la serie c'è ed è importantissima? Abbiamo la fortuna di giocarci la promozione in casa, sarà una partita difficilissima perché loro sicuramente vorranno riscattare gara 1 e sicuramente sarà una partita molto calda anche per il pubblico che già a Formia è stato veramente caldo loro hanno portato tanta gente al palazzetto, anche noi abbiamo tanti tifosi al seguito mi immagino un palazzetto qua pieno e come ho già detto sarà una gara molto importante per noi, per loro soprattutto calda penso come non sia stato qua a Civitavecchia perché durante l'anno abbiamo avuto partite importanti però come questa no Avete conosciuto il Formia nella gara 1, come si vince questa partita? Come si vince? Bella domanda, in difesa come abbiamo giocato a gara 1, uniti soprattutto come è stato fatto e vediamo, siamo riusciti a tenerli sotto la soglia degli 80 punti perché loro durante il campionato hanno sempre superato la soglia degli 80 punti e questo è un fattore importante perché comunque hanno un bel roster, hanno fatto i giocatori importanti e come ti ho già detto l'importante è difendere e stare uniti, poi il resto verrà da sé Stato allenando e vista di questa partita siamo quasi, siamo molto vicini a questo match molto importante che clima c'è nello spogliatoio? Senti, c'è entusiasmo chiaramente perché vincere a Formia non era facile, soprattutto perché loro erano imbattuti in casa quindi noi siamo contenti del nostro risultato e sicuramente non ci accontentiamo Stiamo rivedendo la partita, stiamo lavorando sui dettagli chiaramente perché c'è sempre da migliorare e come ti ho già detto non ci accontentiamo e vediamo domani cosa succede Avete in mente eventuali festeggiamenti o improvviserete eventualmente lì per lì? No, improvvisiamo perché di certo ancora non c'è nulla, di conseguenza siamo contenti del risultato ma siamo copiati per terra quindi c'è da lavorare e come abbiamo detto dopo la partita di Formia non abbiamo fatto niente ancora vedremo domani sera